ciao a tutti e bentornati nel salato dynamics sì lo so da tanto che non ci facciamo sentire e abbiamo ricevuto un sacco di domande su instagram da cui abbiamo risposto ma visto che erano veramente veramente troppe facciamo allora una video risposta così spero di rimedere tutti tutti i vostri dubbi allora innanzitutto le cose importanti sia io che sono emu che va alex stiamo tutti bene stiamo tutti bene non abbiamo il coronavirus e stiamo tutti chiusi in in casa è per cui è anche per quello uno dei principali motivi per cui non non facciamo più video assieme perché io ho l'ambitazione va alex come avete scritto non è mio fratello ma solo un amico abita vicino a casa mia ma non così vicino da poter potersi incontrare perché insomma noi rispettiamo le ordinanze e quindi ognuno sta a casa sua insomma e quindi non potendoci incontrare ovviamente non facciamo video assieme e però magari per il futuro stiamo stiamo comunque studiando qualcosa dopo di che perché non facciamo video al giorno visto che abbiamo più tempo libero perché a noi ovviamente ci piace parlare di calcio potremmo ancora di calcio giocato intendo potremmo sempre da parlare di calcio di stipendio di mercato di futuro di come si muovono i centrocampisti di come si muovono i terzini degli scudetti dei playoff di questo di quello però per il momento insomma per questi i primi 30 40 giorni di quarantena abbiamo preferito utilizzare la via del silenzio per per rispetto insomma tutti quelli che stanno lottando tutti quelli che si sono ammalati e per per questo motivo noi abbiamo optato per fare un lungo periodo di di silenzio da oggi in poi invece con calma con calma riprenderemo a fare dei dei piccoli video in cui appunto introdurremo qualche qualche discorso sul sul calcio insomma sul calcio e non solo in maniera la tenervi anche compagnia perché sappiamo che aspettate i nostri video con molto insomma con molta ansia ecco quindi non preoccupatevi che da oggi in poi saremo un po' più regolari con i video in ogni caso su instagram siamo sempre presenti ogni domanda che fate nel giro di massimo insomma a meno che lo facciate la notte ecco notte fonda insomma un giro di massimo quattro ore vi rispondiamo ecco quindi domandateci pure tutto tutto quello che volete noi ci siamo ritorneremo a fare il video piuttosto la purtroppo di quella qualità è quella che causa coronavirus non possiamo avere troppe luci fatte bene eccetera però per adesso non ci siamo se avete qualche domanda come al solito domandate qua sotto iscrivetevi al canale accendete la campanella e tutto quello che volete noi ci siamo quindi al prossimo video ciao ciao